Manetta le 10 Che dite giusto? Volevo trovare Barbara o Ganyu? Entrambi Barbara con 4 stelle Una su 10 evocazioni da 10 Spererei di trovarla Ganyu sarebbe tanto bello Però non me la sento oggi Cioè spero Però mi sento Jin Io ho detto Top 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 Ganyu, Mona e... No, non Mona Che Mona carina però Ganyu Diluc E Cici In questi 3 casi sarei contentissima Per possibilità Le altre 3 carine Però le utilizzerei meno Molto meno Perché comunque ormai la mia Filch È la mia Filch E quindi adoro che Ching Però dovrei metterla nel secondo team Se sono in scorso Varemona Non mi serve un Da mangi di diere d'acqua Perché sostanzialmente Uso Child Nel secondo team E... Basta Poi chi è la terza Gin Che ho 20 Quindi carina Gin Ma no Quindi preferirei Un Diluc Che sarebbe molto comodo Una Cici Che è comunque Crio E Crio Non ho nessuno O la signorina Ganyu Sono d'accordo Prima le 7 E poi le altre Grazie Betta Qualcuno che mi ha risposto Se è meglio l'uno o l'altro Sto anche io Sarebbe meglio entrambe Allora Meglio sicuramente Ganyu Perché Ganyu la trovi ora E poi non lo sai più Mentre Barbara Ci saranno altre occasioni Con semplice pull Anche random Sul primo banner Comunque il pt come è messo Sono a 32 pull Dall'ultima volta Che ho trovato un 5 stelle Che era Zongli Quindi 32 Forza Gin aspetta No Allora Vabbè Mi tolgo queste 7 singole Guardate le faccio molto Molto easy Singoline 7 E poi andiamo con quelle da 10 Giusto perché Fare alla fine Queste 7 misurbano Quindi queste manco le guardo Facciamo veloce Le avevo accumulate Con i vari livelli Dell'albero Che c'è a Come lo dico A Dragonspine Perché sono arrivata A livello tipo 7 Dell'albero Devo ancora portarlo Abbastanza su Però Te ne dava via via Un po' scaglionati Io me ne sono prese volentieri Ho detto vabbè Fanno sempre tutto comodo Per quando Saremo a pullare Per la nostra Ganyu Quindi La vera sammorata Inizia dopo queste 7 pull Anche perché ho trovato Un 4 stelle di recente Quindi non penso Che nessuna di queste 7 Possa esserci La 10 ma pull Che è quella Dei 4 stelle Sate 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 Preghiamo Tipo Barbara Eh sate sate Ragazzi Sate Allora Ultime due Così ci troviamo Il pensiero instant Ah eccola qua Ok Barbara No Noelle Ecco L'unica che non mi serve Veramente è Noelle Ragazzi Proprio 0 su sale Noelle 0 su sale Ragazzi Non la voglio Non me ne faccio di niente Non l'ho mai usata Solo un bricciolo di Claymore Ma poi ce ne sono usciti altri Nel mezzo Non di look Ovviamente Perfetto Ora iniziano le cose serie Comunque la decima L'avevamo Era Noelle Con queste 7 An 32 Siamo a 39 Quindi Abbiamo qualcuno Che è bravo con la matematica 51 Per arrivare a 90 Giusto Vero Allora Datemi il via Per la prima pool Da 10 Tutto può uscire Può succedere di tutto Potremmo avere anche 2-5 stelle La solita summon Come dice Il signore Ashe Io non dubisco fortemente E go Panico Via Ok Va bene Va bene Datemi Barbara Vi prego Lo so che non è in ritap O avrei bisogno Anche di una Favonius Ward Se me la volete dare O l'arma per Niguang O un paio di armi A 4 stelle Che mi farebbero molto comodo Quindi non si sa mai Nella vita Se esco una di quelle In mezzo a tutte Queste brutte spadine Magari E' proprio la decima Libro Che ne ho tipo Di questi Winsmith Ne ho 10 Perfetto Va bene Va bene Ok ci sta Ne abbiamo tante ragazzi Madonna Ancora 14.000 Su prova matematica Modesto Scherzo Faccio schifo Ok Sì 51 Next Ma così a bomba proprio Le tiriamo Che schifo No Non che schifo Le armi sono comunque buone No Go next Fast No Dobbiamo godercelo Anche perché Poi abbiamo anche quelle di Simon Drop F Ma perché ragazzi State calmi Mi droppate F Quando asce Gin Perché aspettiamo Non lo so Vabbè Andiamo E che le cose Vanno ragionate Bisogna pensarci Intensamente Ok Barbara Io voglio Barbara Dammi Barbara Perché non ci hanno messo in realtà Però più contenta Grazie Cri per questi cuori Sono di incoraggiamento Ora uscirò a Barbara Perché Cri mi ha portato fortuna In mezzo a queste Bellissime armi Datemi sta Barbara Poi scusatemi Mi sono vestita apposta Per richiamarla Bellissimi queste armitte Un'altra Noelle Un'altra Noelle Infatti Barbara Sarà probabilmente Nel prossimo banner L'ho pensato anch'io Vabbè Un'altra Noelle Ragazzi Ci porteremo Noelle A costellazione 6 su 6 Che Uno voleva dire Schifo non fa Ma in realtà Schifo fa Perché tanto non la utilizzo Cioè è proprio l'ultima Che builderei Tra quelli che ho A ribordo A San Noelle No ma ragazzi Ma quando ho visto I figli a 4 stelle Ho detto Ma io non voglio Nessuno di questi Shanling Sì Però Insomma Vabbè Forza E ci si avvicina I numeri grossi Iniziamo a avvicinarci Alle 60 Salmon Poi dopo È più probabile Che esca Un Eventuale PG a 5 stelle Quindi Comunque questo Vi dimostra Che se io mi badassi Il mio predic È stato smentito Perché il predic È stato smentito Simon Shinchu Non ho trovato Altri TRS Ragazzi Perché ce l'ha In TRS Questo personaggio Quindi Un occhietto Doveva essere 3 pull da 10 E doveva essere Alla terza pull da 10 È andata male Simon Niente È andata male Anche perché 3 pull da 10 L'avrei fatte Probabilmente Prima di Prendere le primos Extra Quindi Ok Shinchu Carino Carino Magari se uno Lo porta A livello 4 5 di costellazione Lo trovo anche Molto utile Cioè Per carità C'è chi ce l'ha In team Io personalmente no Va bene ragazzi Io ho un sentorino Su questa pull da 10 Che arriva adesso Non so perché Ma mi sento Che potrebbe essere La definitiva Avete visto Avete visto Avete visto L'avevo detto L'avevo detto Oh mio dio Cavolo ma me ne rimangono Santissime per ciao Sono contentissima di questa cosa Oh mio dio Eccoci Allora Ho bisogno adesso Che Davide mi dica Quanta gente ha votato Che è Gagno E quanta noi Andiamo avanti Che ansia No sto malissimo Sto malissimo Io mi sento Ginn Ginn È Ginn In quattro Sia Ditemi secondo voi Chi è Gyuge dice Ganyu Io dico che è Ginn Ema dice che è Ginn Marco dice che è Gagnu Ma perché dovete dire che è Ginn Perché lo dico io Ok Ganyu Mona Ok Ok non Mona Ok Ema ha cambiato Comunque Sam Non ci è andata vicino No Gabri Secondo te che cos'è Invece di iscrivermi e go Betta Ditemelo voi No io dico Ginn E basta Gagnu Sono terrorizzata Perché potrebbe essere La seconda La decima Ganna Ganna e Gagnu Pensi No Ginn No Ginn No Gabri smettila Voglio il voto di Betta Vicino ma non ci ho preso Ci tenevo Mi dispiace Simon Sarà per quando Ciao Ciao Intanto è fra 20 giorni Puoi riprovarci Per me Ginn Sì vabbè Ma anche se sarai a parlare Con loro su disco E ti staranno dicendo questa Non sono una leggente Sori Eccoci Simpaticissima Va bene ragazzi Andiamo Va bene Sto male Va bene Oddio Oh l'ultima Ok Stavo presente in me Dicevo chi è questo Sì Sì Ok Ok Pazzesco Patrimonio del lunetto Sì Tell me Prima Perfetto Allora Senza impegno Ti tiro queste tre Salmon singole Molto poco rilevanti Tra l'altro Quattro stelle Su Se inizia D'accanto di Salmon È maledetto Bello spadone Favonius Greatsword Ok Ok Ragazzi D'accanto di Salmon Mi hanno detto Non fateci caso Se vedete tanti fulmini Ricordo che devo uscire Cici No Lui ha detto Che se non esce Ganyu Che è comunque il PG del banner E quindi quello Che altrimenti tutti vorremmo Vuole Cici Perché nessuno di noi Qua sul canale Ha Cici Per flexarla Il caro signor Simon Lui ragiona così Da adesso Tutto quello che tiriamo Potrebbe essere La nostra bellissima Ganyu Quindi queste le tiro Singole Però stiamoci un attimo Attenti Poi le Salmon Vero arrivano dopo No Devo averla solo io Perché mi serve davvero Davide Tu hai pullato Su questo banner O no Perché sono arrivate Soltanto le foto Di Giuge E di Lori Che loro Hanno pullato E trovato Voglio sapere Se anche gli altri Che giocano Ci avevano pullato O meno So per esempio Che entrambi i Gabri Uno perché sta giocando A World of Warcraft L'altro perché Sta aspettando Ciao Non pullano 4 stelle Salmon Questa è una bellissima Noelle No Shaling Io avrei pagato Per una Shaling Questa è un GG Perché Shaling è buona E di fuoco Tu e vero Utilizzi Bennett Però anche lei è buona Quindi Tra i 3 Che ci sono qua È quella più Più worth L'avrete voluto L'avrete voluto trovare Anch'io Ma non mi metterò A spendere Primo Per trovare Shaling Me le tengo E le accumulo In questi 20 giorni Per arrivare A Xiao Con un numero Abbastanza sostanzioso Avevo pullato Ma niente Quanto hai pullato Shree Quanto c'avevi Ma appunto Su Xiao Quindi tu Non nemmeno il prossimo Ma il banner Ancora dopo Quindi a fine febbraio Eh sì Per forza Metà febbraio Insomma Seconda metà di febbraio Waiting for Barbarina is waiting for you Vada oggi Va bene Vado Ok Eccoti Ale Sacrifica il bull Mai visto Tra l'altro Non ho trovato Nessù delle armi Che mi servivano Io ho già sammonato Ale Io ho già sammonato Queste sono le sammon Per Simon Comunque Ale Riki Riki Ale Salutatevi Ok Vediamo se c'è anche un PG A 4 stelle O qualcos'altro A 4 stelle In questo In questo Sammo da 10 Questo ne abbiamo visti 800.000 Gli ho già sammonato L'ho trovata L'ho trovata Ale Alla Quarantesima pull No Quarantasettesima Noelle Ebbene sì Però L'arco è nuovo Magari su qualcuno Ti serve Noelle Utilissima Fondamentalissima Come c'è la La meme Quello di Lady Gaga Brilliant No no Non lo scrivi nel tisolo Così la gente Stiamo sammonando Ancora e viene Lascia fare Lascia fare Allora Talented Brilliant Tutto il resto Thomas Non c'entra nulla Dice tutto Perfetto Bene Allora Noelle è più forte È forte Solo a C a 6 Perfetto Sì sì Fortissima La mando sempre Spedizione a Fendermi Il cibo Molto utile Però in quelle È utile Dai forza Forza coraggio Ci voglio credere Quindi Forzissima Go 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 Ok no Vediamo È ancora presto Perfetto Forza dai Un'altra shaling Un'altra shaling È l'unica E ti auguro Veramente Ho uno stringless Per Ganyu Che è un arco A 4 stelle Nel canno In cui poi Ti troviamo Ganyu È fatta No Sacrificare Sword Prima abbiamo trovato Un'altra Abbiamo trovato Tutte armi Tutte armi Triste Madonna Quest'ora Delle armi Proprio triste Come salmon Comando segreto No il comando segreto Ma è me Punto MSN Ok Ok ragazzi È andata Per ora Però L'altra volta Nella terza salmon Nella terza salmon Da 10 Gli ho trovato Kiching Quindi magari Simon è sempre fortunato Nella terza salmon Da 10 Quindi Senza indugiare Oltre Io andrei Con la terza salmon Da 10 Forza No Niente Niente Ce la vogliono Far fatire No Non era nemmeno Con il tuo account E invece Hashtag 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 E invece Bello Spadone È incredibile Come il quattro stelle Arrivi sempre per ultimo Noelle Mi fa ridere Perché sembrano le mie Samo No Simon Magari siamo collegati In qualche modo E arriva anche a te Con la quarta Perché abbiamo avuto uguale Solo che io ho trovato Uno shinshu Al posto di te Che hai trovato una sola arma Però negli altri due Samo l'ho trovato Noelle Quindi potrebbe anche Che in questo momento La 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 Noelle No Non ti arrabbiare Con Noelle Oh mia bella Madonnina Ciao Franci Ciao Ciao Allora Vado Simon Te la senti in questa Io me la sento tantissimo Forza Ciao Franci Vada Sì sì Io mi sento in questa E questa Prima me la sentivo a me Me la sento anche a te No Su di te no No Ora è un'altra Noelle Rido eh Rido Simon mi ammazza Samo non mi uccidere Ti prego Bella Amber Sei un'altra Noelle No Non lo cancelli No Come diamine si fa Una semillagenda E là Come si chiamano Eh Ci sono vari modi Noelle Meme del canale Se esce ancora Sì Eh Tipo Kakuna Noelle e Kakuna Poi questi spadoni Ragazzi Sti spadoni a due mani Sono per Noelle Proprio tutto un richiamo A Noelle stessa Forza Dai Cambiamo personaggio E il weed smith Che ho trovato io Simon siamo in qualche modo Connessi Non c'è verso Ok Ok Abbiamo altre tre Samo da dieci Quindi È tutto ancora possibile Io te la tiro Tu non mi dai consensi Né niente Io te la tiro a segreto Ah Così Niente Nemmeno così Oh Ma poi doveva succedere Anche a lui Eh Ma poi doveva succedere Anche a lui Ma a parte siamo di nuovo Quasi a cento Quindi io dico Che adesso Da qui alla fine Esce Esce Tira fino a quando Non ti avviamo 5 stelle Sì Lo so Lo so Ma dicevo Te lo tiro a sorpresa Perché non mi hai dato il via Per tirarla di nuovo Fondamentalmente era una battutona Epica Finita male Però Il senso era quello Tutte queste Non c'è un arco ragazzi Togliamola Togliamola Non è successo niente Erano tutte armi Erano tutte Tutte Tre armi Tante spade Tantissime spade Un arco Quattro stelle Non sta scrivendo ragazzi È tipo Svenuto sulla sedia No 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 E no Di là Per conto tuo Ma no Assolutamente no No Dai A tradimento Niente Niente Ai 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 Si va all'ultimo Da 10 Te la voglio far sudare Che è Questa cagno Eh Simon Porcaccia ladra Ci piace Ci piace Porca miseria Va bene Ci sta Secondo me Esce un'altra novel Shinchou Ce l'avevi O no Ce l'avevi già Si Lui più carino Almeno abbiamo trovato novel Ragazzi E vado Me la sento Eccola Ok Bene Me la sentivo Me la sentivo Ah A posto Easy Meno male Agisco di testa mia Easy Pull da 10 Gagno subito Prima pull Eccola